Sì, allora possiamo cominciare. Bene, di nuovo... Sì, professoristi, possiamo cominciare. Ecco, di nuovo buonasera. Il professore Gianni Giudica è un affettuoso e operoso amico dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici. Già membro effettivo del Consiglio di Amministrazione, ora ne è membro onorario. Dico operoso perché non ha recato soltanto il contributo nell'organo amministrativo, ma ha anche condiviso l'allargamento del nostro orizzonte culturale alla musica. A Gianni Giudica noi dobbiamo il rapporto con Armando Torno, che tra qualche giorno ci parlerà di Beton. Oggi Gianni Giudica torna come giurista, come giurista su un tema di grande rilievo. Lo Stato moderno è la codificazione. La codificazione poco o nulla si capirebbe se non lo sfondo dello Stato moderno, poiché l'unità dello Stato moderno si è fatta unità della legislazione nella forma dei codici. Dicevo poco prima che non potrò ascoltare la lezione di Gianni Giudica, il quale però l'ha affidata ad un gioiello editoriale che ho qui tra mani, il libretto blu, dal titolo Lo Stato moderno è la codificazione, pubblicato dall'editoriale scientifica. Non era agevole raccogliere un dibattito vecchio di secoli in pagine limpide e sobie come quelle di Gianni Giudica che ha ripercorso la storia di ormai oltre due secoli giungendo fino all'oggi, all'oggi dove furono segnalati problemi di decodificazione, all'oggi che vede anche come una rinascita della forma del codice. Mi pare, è vero Gianni, che in Francia ci siano addirittura 34 codici e naturalmente non il cod civil sulla cui prosa indugiava Stendhal ma codici di materie sempre più speciali e sempre più particolari. Immagine fedele della frantumazione dello Stato moderno. Quindi la crisi dello Stato moderno è anche crisi della sua forma legislativa che è il codice civile. Questo libbrecino è dedicato ai borsisti, non è dedicato alla generalità dei lettori, neanche al presidente, né all'amministratore delegato, né al segretario generale dell'istituto, ma ai borsisti. I borsisti sono i destinatari delle pagine di Gianni Iudica e posso ben capirlo perché il rapporto con i giovani non è altrimenti sostituibile. Quando ragioni anagrafiche impongono di lasciare le aule dell'università richiamo sempre noi il rimpianto, la nostalgia del dialogo diretto con i giovani. non il dialogo a distanza, ma quel leggersi negli occhi che è propriamente l'insegnare. quando tu fai lezioni e scruti nell'occhio del giovane un dubbio, una perplessità che ti costringe ad essere ancora più chiaro e dunque ti costringe a capire sempre di più il tema del tuo discorso. Ecco, non indugio ancora, di nuovo salutando e ringraziando con antica, ma non logora, amicizia Gianni Iudica, gli amici Roberto Giordano e Marta Ehring e con lo spirito che loro sanno tutti i borsisti dell'Istituto. Vi ringrazio. Allora, senz'altro direi, darei la parola a Gianni Iudica. Professor Iudica può accendere il microfono. Grazie Presidente, anche caro amico. Anch'io desidero esprimere un vivissimo e sentito apprezzamento per l'allargamento al diritto dell'orizzonte formativo di questo istituto. Un allargamento fortemente voluto dal Presidente e dal suo direttivo. E bisogna dire che accanto alla storia e alla filosofia, che sono i due capisaldi della vita formativa di questo istituto, l'allargamento al diritto credo possa giovare sia alla storia sia alla filosofia, posto che il diritto poggia su due fondamentali interrogativi. Quidius e quidiuris. Quidius cos'è il diritto? Cos'è la giustizia? Cos'è il giusto? Cos'è l'equità? E' un interrogativo al quale io non so dare risposta, ma tutti i filosofi hanno cercato di dare una risposta. Da Platone, Aristotile, Eraclito, persino a Nassimandro, in quelle cinque righe dell'unico frammento rimasto del suo pensiero ci sono ben due riferimenti alla giustizia. Ma persino Carlo Marx, che considerava il diritto come figlio di un Dio minore, ha dovuto fare i conti con questa sovrastruttura, così la chiamava lui, del diritto. Io non mi occupo di questo interrogativo, del quidius. Cerco di muovermi nell'altro ambito, quello del quidiuris. Ebbene, ho cercato di dividere questa esplorazione in due parti. Una prima parte verso la codificazione e una seconda parte dopo la codificazione. Cominciamo dalla prima, partendo da lontano. Ecco, mi sarebbe opportuno poi spegnere i vari microfoni, se no ci sono gli accavallamenti. partendo da lontano, partendo cioè dall'alto medioevo, dai secoli cosiddetti bui che erano, come dire, dominati in maniera totalizzante dalla Chiesa. Il popolo, ma anche la nobiltà, l'esigua nobiltà del tempo, era sostanzialmente analfabeta. Il monopolio della cultura, della lingua innanzitutto del latino, di quella che era la cultura del tempo, una cultura ispirata dalla patristica. Era la Chiesa, la depositaria, pressoché esclusiva. Pochissimi sapevano leggere e scrivere. E bisogna anche dire che non c'erano neppure i libri su cui studiare. Perché dopo la conquista di Medioriente, il papiro era diventato introvabile o costosissimo. Il papiro dell'Egitto e di Biblos. E quindi l'unico modo per costruire un libro erano le catombe di centinaia di piccoli agnelli. Perché la pergamena si costruiva sulla pelle delicata e fragile degli agnelli. Quindi un libro era una cosa costosissima. E ben pochi erano in grado di sostenere i costi del suo acquisto. Cardinali, qualche vescovo, ma certamente non i preti che operavano sul campo. Si poteva trovare qualche libro. Ma pensate che Dante Alighieri, che è stato guidato nel suo percorso della Divina Commedia, Dante Alighieri siamo alla fine del 1200 e ai primi del 300, ha scoperto Virgilio dopo i vent'anni, quando ha lasciato Firenze e l'ha andato a Bologna. Lì ha trovato una copia dell'Eneide. E certamente non l'ha copiata, ma l'ha messa a memoria. A quel tempo la biblioteca di ciascun ricco o povero che fosse era la sua memoria. Le preghiere, che dovevano essere recitate almeno due volte al giorno, erano tutte messe a memoria in latino, una lingua sconosciuta per la gente. I contadini, i bottegai, che vivevano rispettivamente nelle campagne o nel retro delle loro botteghe, dovevano recitare il pater noster in latino, tutto a memoria. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen... santificetur o santificatur? Santificetur. E perché? Non si poteva dire perché è un congiuntivo. Nessuno capiva cos'era il congiuntivo. Doveva tenere a memoria la preghiera così come gli era stata insegnata. importante non sbagliare perché una preghiera mal detta era dubbio se fosse valida e se arrivasse a Dio. Ebbene, in questa situazione di, non di povertà della gente, ma di miseria della gente, in questa situazione di totale analfabetismo, la Chiesa aveva il monopolio della cultura, quindi del potere. E questo si può dire dal Trecento, dall'epoca di Costantino, fino alla scoperta o alla riscoperta avvenuta nel 1100 della Corpus Iuris Civilis. Una scoperta fatta da Irnerio, che era uno studioso tedesco, che è venuto a studiare a Bologna e lì ha fatto questa immensa scoperta del Corpus Iuris, le pandette, il codice di Giustiniano e soprattutto ha avuto la geniale idea attraverso il metodo del commento e della glossa passo per passo di cercare di rendere vivente questo Corpus venuto dal passato e cioè di rendere il diritto romano attuale ai suoi tempi. Naturalmente questo ebbe un successo dilagante in tutta Italia, che era il cuore dell'Europa e in tutta Europa. in queste nuove realtà che si chiamavano università come Bologna, Pavia, la Sorbona, Parigi, ma già incominciavano a crescere altre sedi, altri luoghi e si incominciava a studiare accanto alle tradizionali materie delle arti liberali e quindi anche il diritto. Il diritto romano. Quindi la formazione del giurista si alimentava sulle pandette di Giustiniano, sulle glosse di Irnerio e dei suoi allievi. Dunque, questo diritto romano che dilagò in tutta Europa divenne o aspirò a diventare ius commune omnium. e in parte lo diventò perché il substrato romanistico della cultura europea traspare come dire da tutte le parti. Ma ha la possibilità di realizzare a pieno il sogno di Irnerio e cioè di vivere in un mondo governato dal diritto romano si creavano diversi ci furono diversi ostacoli. Il primo ostacolo era il diritto naturale della Chiesa. va bene le regole del diritto romano ma queste regole giammai avrebbero potuto contrastare il diritto quelle regole quelle norme che Dio stesso ha impresso nell'animo degli uomini. Per esempio il diritto romano prevedeva la figura del divorzio o addirittura del ripudio nel diritto di famiglia. Due istituti incompatibili con la legge divina secondo la quale il matrimonio è sacramento. Ma la Chiesa pur sempre occupò del diritto romano tutti i punti nevralgici quelli che riguardano i grandi momenti della vita dell'uomo. La nascita l'uomo incomincia ad esistere col battesimo quindi gli atti battesimali non c'erano i comunali c'era era la Chiesa che stabiliva quando uno nasceva alla comunità di Dio secondo il matrimonio il sacramento del matrimonio al sacramento del battesimo seguiva il sacramento del matrimonio e si concludeva col sacramento della comunione controllo della nascita della vita e della morte da parte della Chiesa. Questo controllo diede vita anche a un altro filone di diritto il diritto canonico che traeva alimento vita e slancio dal diritto romano ma aveva acquistato la sua propria fisionomia una certa sua autonomia dal diritto romano. i ragazzi più in gamba delle università si laureavano utroque ore e quindi ecco il primo ostacolo alla diffusione del diritto romano come legge vigente in tutta Europa è che la legge comunque anche quella nobile e di antico lignaggio del diritto romano doveva fare i conti con le norme della morale cristiana. Secondo Sant'Omaso d'Aquino siamo nel 1100 l'ex in justa non est l'ex mi spiace diceva Sant'Omaso d'Aquino ma Sant'Omaso d'Aquino con tutta la scolastica la quale ragionava secondo i valori propri della patristica la patristica era quella di San Girolamo di Sant'Agostino di Sant'Ambrogio in occidente di San Gregorio Magno e in oriente di San Basilio Magno di origine di Sant'Anna insomma grandimenti che avevano creato un corpus di fede che era il fondamento poi della religione cristiana ma anche delle regole che governavano la società di allora. Oggi in Arabia Saudita non c'è un codice civile c'è il Corano si applicano le leggi della Bibbia e Corano in Marocco non c'è un codice civile c'è il Corano i testi rivelati nella rivelazione contengono regole fondamentali del buon vivere. Il secondo ostacolo non meno forte alla diffusione del diritto romano come legge come ius comune omnium erano le coutume cioè le consuetudini soprattutto nei luoghi del nord la gente viveva e si comportava secondo regole che venivano dal passato dai dagli dei mani direi cioè dai genitori dai nonni erano le consuetudine io mi comporto così perché così si è sempre fatto basta non c'era bisogno di altre conoscenze altre cose e le consuetudini portavano a volte a regole confliggenti con quelle del diritto romano per esempio le consuetudini dei cavalieri dell'ordine cavalleresco della nobiltà della nobiltà cavalleresca confliggeva con le regole del diritto comune con le regole e le consuetudine verso il nord parigi dove pure c'era una celeberrima università nella quale si insegnava il diritto romano ed era insegnato da illustrissimi giuristi studiava le consuetudini parigine che erano diverse dalle consuetudini di Tolosa e che erano diverse dalle consuetudini lombarde era difficile anche contraddire queste consuetudini e la consuetudine era che i beni relitti andassero al primo genito ancora recentemente mi è capitato di sentirmi dire chiedendo a una contessa anziana novantenne ma dico tu avevi dei fratelli e lei rispose mi ha risposto sì dice mio padre ha avuto un figlio e due femmine siamo nel 2021 un figlio non tre figli ha avuto un figlio e due femmine cioè ha avuto una nave e due sciaruppe siamo nel 2021 quindi figuriamoci le consuetudini dell'alto medioevo del 1100 eccetera dove effettivamente si riconosceva il diritto di maggiorascato il diritto che stava scritto dove? nelle consuetudini soprattutto in ambiente nobiliare dove circolava la ricchezza il primo genito riceveva oltre al titolo anche il patrimonio se c'era un altro figlio si dedicava alle armi all'arte nobile arte della guerra l'altro alla carriera ecclesiastica e le femmine a sposarsi o al convento non dimentichiamo poi che soprattutto in quegli anni di miseria incredibile c'era una mortalità infantile che non riusciamo a immaginare e c'era una mortalità giovanile altrettanto elevata mortalità infantile perché i bambini morivano e quindi le donne dovevano fare 18 figli per poterle conservare tre 18 parti 18 rischi di morire a propria volta e la mortalità giovanile ragazzi di 17 18 anni partivano per la guerra il mondo era pieno di guerra era infestato di violenza uno tornava e l'altro no c'erano le malattie c'era la morte dietro l'angolo e tutto era difficile era difficile riuscire a vivere a mangiare nella preghiera che abbiamo evocato del padre nostro si chiede il pane darci oggi il nostro pane quotidiano perché la gente si nutriva di pane e aglio e cipolla e poco altro i carcerati pane e acqua e fin troppo quindi pensate un'altra cosa tanto per avere un'idea calarsi in quel mondo ma come facevano ad accendere il fuoco non c'era una fiammifera non c'era un pezzo di carta bisognava usare l'acciarino che faceva scintille da per tutte si sperava che una di queste scintille finisse su una foglia secca ma tutte le altre che si diffondevano per la casa potevano generare un incendio quindi il fuoco era il simbolo del focolare doveva sempre essere tenuto acceso non è facile tenere sempre un fuoco acceso nel focolare domestico se il fuoco si spegne ahia brutto da fare una terza un terzo elemento contrastava in maniera se volete paradossale la possibilità di utilizzare il diritto romano come ius comune omnium ed era la riflessione dottrinale cioè su questo diritto romano fiorirono gli studi le ricerche le riflessioni dei migliori cervelli dell'epoca innanzitutto gli allievi di Ernerio nomi importanti che erano ad un tempo giuristi e uomini di cultura a volte anche letterati poeti pensate a Cino da Pistoia pensate al grande Bartolo di Sassoferrato Baldo degli Ubaldi Jacques de Belperche de Dorevigny Pierre de Belperche tutte figure di primissimo ordine una delle quali Bartolo di Sassoferrato fu una vetta diciamo così irraggiungibile Bartolo nacque nel 1313 morì nel 1357 vita abbastanza lunga per quel tempo Bartolo era considerato lucerna era considerato il l'interprete per l'eccellenza del diritto romano anzi era frequente e diffuso il detto nemoyorista nisibratonista nessuno poteva dirsi davvero un giurista se non era seguace di Bartolo questo mos italicus fu fieramente avversato da un mos gallicus quindi da un'altra scuola che si opponeva che si opponeva con fierezza e con fermezza a questa sperva autorità di Bartolo il mos gallicus si caratterizzava per essere la scuola culta di origine francese straniera accursio nomi importanti Andrea Alciato Guiacio Guigas tutti nomi che si contrapponevano al mos italicus sia il mos italicus sia il mos gallicus facevano comunque riferimento al diritto romano ma offrendo interpretazioni sul testo sulla singola norma divergente al bartolismo si opponeva l'antibartolismo e quindi voi immaginate in questa situazione la posizione di un giudice che doveva a un certo punto dare una risposta a qualcuno che gli chiedeva una soluzione a una controversia ebbene il giudice si trovava davanti a diritto romano al diritto canonico alle consuetudini al mos gallicus al mos italicus e allora e allora decideva scegliendo la fonte che lui riteneva preferibile per il caso concreto in ultima analisi a quel tempo e per secoli il giudice è stato Tanquam Deus non aveva paletti alla sua libertà interpretativa questa del giudicante metteva seriamente in crisi la sicurezza dei rapporti sociali perché la decisione del giudice non era calcolabile non era prevedibile chissà come deciderà su che base chissà accadeva insomma un qualcosa che assomiglia a quello che accade ancora oggi nell'arbitrato d'equità dove non si sa quale sia il contenuto dell'equità che ha in testa l'arbitro o il collegio arbitrale ed è difficile anche per gli avvocati poter avviare un contraddittorio su che cosa non su norme su interpretazioni di norme ma su su nulla perché l'equità è nella testa del giudicante e uscirà la soluzione solo al momento della determinazione dell'auto è chiaro che questa situazione molto ricca affascinante ma totalmente ingestibile della giustizia esigeva dei rimedi e si badi io mi sto riferendo unicamente alle norme che riguardano la brava gente cioè al diritto civile non alle norme che riguardano i delinquenti al diritto penale magari in coda a questa conversazione dedicheremo due parole al diritto penale però noi ci stiamo occupando del diritto che rappresenta le gli assi portanti del convivere civile comunque forma di comunità sociale esige delle regole per la distribuzione non solo dei compiti ma soprattutto del potere e della ricchezza e allora allora mi prendo un caffè e allora incominciò ad avviarsi un movimento un movimento ancora confuso poco lineare ma che comunque significava qualcosa qualcosa si stava muovendo in direzione di qualcosa che non era ancora chiaro ma la macchina si stava muovendo le ruote incominciavano a girare e questo è il periodo delle cosiddette consolidazioni non sono codificazioni nel senso che vedremo ma insomma nasceva nasceva questo bisogno questa necessità assoluta vitale di mettere ordine in questa confusione in questo quacervo di fonti di diritto perché il diritto romano era fonte di diritto le condizioni erano fonti l'autorevole parere di Bartolo era fonte di diritto nel senso che il giudice traeva spunto dalla dottrina e riversava il parere della dottrina nella sua decisione c'era questo bisogno di mettere ordine e questo bisogno prese corpo e vita in un movimento chiamato del consolidazione un grande pensatore Dumoulin e Molinéo siamo nel fine cinquecento ma la seicento scrisse un discur sur la concorde e l'unification des coutumes de France cioè cerchiamo di trovare una concordia tra le fonti discordanti cerchiamo di trovare un filo conduttore che vedi qualcosa sulla scorta e sul modello celeberrimo di Graziano il quale nel suo decretum concordia discordantium canonum aveva creato una consolidazione modello del diritto canonico addirittura il più imbelle dei re di Francia carlo 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 settimo charlo e sette quello di giovanna d'arco per intenderci quello che affidò a giovanna a questa ragazzina di diciannove anni un po' strana vestita con corazza e lancia e bandiera il destino di Francia il suo destino carlo settimo detto il roi de bourges perché parigi era in mano agli inglesi perché la sua sede era bourges che è una città nel cuore proprio della Francia profonda questo carlo settimo era totalmente imbelle sostanzialmente uno stupido aveva sposato marie d'anjou un'angioina a Napoli il nome angio suona bene la cui madre era Iolanda d'Aragona la madre sapeva benissimo quanto la figlia sposa di carlo settimo fosse bruttina insignificante senza alcuna personalità una figura squallida e grigia e inutile e allora la madre la suocera diciamo la madre della moglie Iolanda Tarragona mise nel letto di carlo settimo una donna bellissima agnes sorella per chi non l'avesse presente Agnese sorella è stata dipinta come Madonna come una Madonna da Jean Fouquet grandissimo pittore fiammingo e questo quadro di questa Madonna è al museo di Anversa è una Madonna a seni nudi una cosa siamo nel 1403 una cosa pazzesca una Madonna a seno nudo ma non era in realtà la Madonna era la bellissima strepitosamente bella Agnese sorella la quale oltre a essere bellissima aveva un carattere d'acciaio e fu lei a guidare Carlo VII verso Giovanna d'Arco e verso quell'incoronazione a Reims che fu la salvezza della Francia contro l'Inghilterra ma perché dico questo perché questo re in belle ebbe un ministro che fece delle consolidazioni delle coutumes de France importante un passo importante perché tutte queste consuetudini disperse qua e là il nord il sud Parigi e Tolosa furono come dire messe insieme sotto legge da di questo parlo VII che dopo l'incoronazione di Reims e grazie a questa Agnese Sorelle acquistò nervo fiducia in se stesso coraggio determinazione le più importanti delle consolidazioni fu quelle di Colbert le ordonnance di Colbert cosa ha fatto Colbert ha fatto più o meno la stessa cosa ha detto occupiamoci e limitiamoci alla economia commerciale al commercio che era la ricchezza della Francia del tempo accanto all'agricoltura ovviamente e ha fatto con queste ordonnance aveva messo ordine in tutte le consuetudini regole del diritto romano e tutto nel ordonnance de Colbert padre era Luigi XIV e lui era ministro di Lui XIV dunque questi furono passaggi che ci portano gradualmente verso qualcosa di nuovo che non non c'era che non c'era mai stato nella storia bisogna risalire per avere una visione unitaria ad Hammurabi forse ebbene mentre si stavano realizzando queste consolidazioni la cultura europea faceva passi da gigante nel senso di una graduale apparentemente impercettibile laicizzazione cioè liberazione dall'ipoteca fortissima della Chiesa la quale si occupava non solo dei momenti salienti della vita dell'uomo come abbiamo visto ma soprattutto del post morte bastava violare un precetto e se il peccato era mortale c'era l'inferno per l'eternità e insomma la gente aveva paura e quindi era difficile staccarsi da questa ipoteca culturale mentale psicologica che corrispondeva al potere della Chiesa ebbene a un certo punto qualcuno aveva rotto il ghiaccio Machiavelli aveva osato dire princeps si vedeus chi è il Deus non è il giudice tanquam Deus è il princeps si vedeus è lui il Deus no momento Deus è Deus no il princeps è Deus si stava come dire affermando l'idea di un nuovo diritto naturale siccome non c'era un diritto scritto diverso da quello romano delle consuetudini si stava affermando un nuovo diritto naturale ma che non era più il diritto naturale di Sant'Agostino di Sant'Ambrogio della patristica della scolastica ma era il diritto naturale della ragione Dumoulin Grozio soprattutto Montaigne Jean Baudin stato assoluto si stava realizzando una formidabile saldatura tra la sovranità e la legge prince si vedeus se lui è si vedeus deve poter essere anche l'unica fonte di diritto e il suo diritto non può che essere quello fondato sulla ragione la parola ragione si sposa con l'illuminismo è questa nuova luce la luce della ragione che esplode fino a Kant no la critica della ragione ora con la rivoluzione ci fu la dea ragione la ragione si vedeus quindi un nuovo diritto naturale se vogliamo sta nascendo qui bisogna dare giusto rilievo a due figure una alla denuncia di muratori del nostro muratori che nel suo libro dei difetti della giurisprudenza nella prima metà del 1700 parla delle fonti del diritto come di un foltissimo bosco cioè di una selva oscura bisognava mettere ordine d'altra parte d'altra parte Montaigne aveva denunciato questo parlarsi addosso della dottrina questo fare commenti sui commentari in una catena infinita Montesquieu con suo capolavoro Esprit Delois aveva posto le basi di un mondo nuovo nel campo giuridico quando uscì l'Esprit Delois siamo nel 1749 immediatamente i gesuiti e i domenicani chiesero la sua messa all'indice perché era una cosa incredibile era un libro rivoluzionario e il giudice nell'ottica di Montesquieu attenzione da Tanquandeus che era all'epoca dei Bartolisti del Moscalikus eccetera eccetera deve essere e non può che essere Bush della Loire e la Loire non può che essere la volontà del Princeps che è Tanquandeus Pussottien ma perché questo Montesquieu insomma uno molto raffinato molto ebbe così tanto successo ma vuol dire che ebbe tanto successo in particolare presso i rivoluzionari presso il terrore i terroristi del terrore perché è bellissimo perché perché quando lui parlava il giudice deve essere Bush della Loire faceva riferimento a una fattispecie di evitare il buonismo cioè dice non vorrei che se la legge stabilisce una certa pena non vorrei che il giudice liberamente ritenendosi tanquam Deus riducesse la pena a una quisquiglia no il giudice deve rispettare la volontà della legge il giudice deve essere Bush della loi successo clamoroso presso la convenzione pubblica presso Rovespierre e compagni ma c'era un problema di fondo da risolvere quando si parla di diritto romano di corpus iuris c'era un riferimento scritto per barco le pandette di Giustiniano tutti i testi romanistici ma quando si parlava quando si parlava di diritto naturale secondo le sacre scritture beh c'erano le sacre scritture ma qui il diritto naturale secondo ragione quali sono i suoi contenuti poi alla fin fine bisognava trovare dei contenuti dei contenuti espressi a prescindere da tutto il resto ma utilizzando solo la ragione addirittura Grotius diceva bisogna trovare un diritto naturale anche se Dio non esistesse a prescindere totalmente dal diritto naturale della chiesa e qui vennero in aiuto bisogna riconoscere due grandi figure di giuristi francesi uno fu Domà il quale scrisse un libro dal titolo le loi civile dans leur ordre naturel le leggi civili nel loro ordine naturale l'ordine naturale è quello della ragione ma chi era questo Domà era un funzionario era uno studioso stipendiato da lui 14 l'ubicatore ha detto studia ti do una pensione ti do uno stipendio ma tu studia studia queste leggi che tu dici naturali vedi un po' tu lui scrisse questa opera importantissima perché perché incominciava a dare dei contenuti a questo diritto naturale secondo ragione sulle spalle di Domà poggiarono a cavalcioni le gambe di Potier un altro grandissimo giurista che con tutta una serie di trattati in tutti i campi dello civile civilistico fornì un quadro contenutistico formidabile che costituì poi la base di qualcosa che ancora non c'era ma che era lì per nascere che era lì per dover nascere non poteva a un certo punto non nascere e si fece dunque avanti una ideologia della codificazione cioè si incominciò a dire ma proviamo a pensare a qualcosa di veramente nuovo che poggi su questi passaggi primo ablazione totale del passato prendiamo la lavagna una spugna e cancelliamo secondo espropriazione del potere dei giudici è facile espropriare i giudici del loro potere terzo espropriare l'autoritas invadente dilagante della dottrina mos gallicus mos italicus via ulteriore passaggio dall'ablazione alla appro del potere assoluto dello stato assoluto del princeps sivedeus di porre norme giuridiche il passaggio finale è quello del sovrano che diventa l'unico legislatore il sovrano diventa il legislatore è lui che fa le leggi è lui l'unica fonte monopolista del diritto allora i rivoluzionari dietro da fare Robespierre nel 91 fece una celeberrima costituzione dove fissò i principi fondamentali del nuovo stato chi era Robespierre Robespierre era un avvocato di provincia era un avvocato un avvocato di provincia che vestiva alla provinciale con la parrucca bianca e i ricciolini è un caratterino diciamo ecco Robespierre però aveva questo stile ancien regime pur essendo il più fanatico e sanguinario dei rivoluzionari ma questi tentativi di formare commissioni e dopo commissioni per creare per vedere di trovare il modo di calare in norme tutto quello che ci siamo detti fino ad ora trovava delle resistenze una famosa resistenza fu quella di Danton il quale in uno dei suoi come dire formidabili appassionati e travolgenti discorsi alla convenzione disse che tutte le zone de loi sono di un'aristocratie rivoltante tutti gli uomini di legge sono di una aristocrazia nauseavonda rivoltante allora e allora alto là alla alla marcia verso una codificazione chi salvò questa marcia fu Saint-Just il giovanetto ragazzino il quale con una lucidità feroce ma insuperabile ineguagliabile fece progredire la marcia verso quella codificazione che non c'era quella realizzazione di quel sogno rivoluzionario che non era ancora stato realizzato e a quel punto non bastava più il pensiero dei giuristi non bastava più Domain Potier non bastavano più le commissioni ci voleva la forza politica la forza della politica la forza di Napoleone il quale torse di mezzo tutte le commissioni precedenti ne costituì una nuova totalmente nuova tenendo dentro però Portalis che può considerarsi il vero padre del Code Napoléon e finalmente nel 1804 nacque questo monumento unico insuperato il Code Civil de France il Code Napoléon il quale poggia su alcuni fondamentali principi che sono i principi della rivoluzione principi della rivoluzione che sono stati vestiti di forma giuridica che sono primo la chiarezza del linguaggio i giuristi i giuristi erano famosi per il loro linguaggio fumoso incomprensibile un linguaggio da chierici che capivano solo si capivano solo fra loro forse neppure del tutto a zecca garbugli che non sono altri chiarezza si diceva prima Standal aveva come dire lo snobismo di leggere un articolo del Code ogni giorno per sciacquarsi la lingua diciamo nel buon francese seconda caratteristica cosa vuol dire chiarezza vuol dire che tutti potevano capire quello che c'era scritto secondo laicità il codice è laico laico significa che poggia su principi della ragione laica quelli di cui abbiamo parlato prima e quindi e quindi il matrimonio è un contratto non è un sacramento beh ma la gente voleva credeva ancora nel matrimonio davanti al prete in sostanza no dice il cod il cod napoleon prima ti sposi civilmente poi se vuoi fai pure carnevale fai quello che credi vai davanti al prete vai davanti a chi vuoi ma se vuoi un matrimonio serio vero con effetti civili devi sposarti civilmente uguaglianza parola dura difficile perché tutto il passato si fondava sulla disuguaglianza istituzionale no il codice è uguale per tutti che vuol dire uguale vuol dire che tutti tutti acquistano la capacità giuridica e la capacità di agire quello è un altro discorso dopo a 23 anni a 21 quando è ma tutti acquistano la capacità giuridica sono tutti uomini donne chiunque siano persone che hanno la medesima capacità verso il diritto è una conquista una conquista enorme rivoluzionaria davvero viene calato nel codice il principio di Robespierre nell'articolo non ricordo 9 o 6 della costituzione di Robespierre la proprietà è sacra che vuol dire sacra mica torniamo alla patristica alla scolastica no sacra in senso laico sacra inviolabile nel senso che anche chi è sovrano non può violare la proprietà del privato non può requisirla come si faceva una volta ho bisogno di quel castello me lo prendo per fare la guerra no se voglio quel castello devo comprarlo o dargli delle indennità quindi un altro principio fondamentale ma accanto alla sacralità del dominio naturalmente un dominio quiritario ancora di diritto romano usque ad sidera usque ad inferos ci stava la libertà negoziale un qualche cosa anche qui di assolutamente rivoluzionario perché la volontà dei privati avente un contenuto economico equivale a una norma di legge i privati stipulando un contratto stipulano qualcosa che ha un'efficacia pari alla volontà del legislatore ovviamente non è una volontà non è un'autonomia che nasce prima del codice ma è un'autonomia che deriva dalla volontà del codice è una autonomia delegata riconosciuta ma presente ultimo elemento utopistico questo sì utopistico era quello della completezza completezza significa non c'è bisogno di altro questo è il codice qui c'è tutto qualunque controversia trova qui o nei suoi principi o nelle regole dell'interpretazione dell'analogia ma qui ogni risposta a ogni possibile problema o controversia e allora che ne è di tutto quell'immenso foltissimo bosco del passato di fonti di consuetudini di pandette di digesto che ne è e sono diventate materie per arricchire la cultura del giurista ma non hanno più una valenza di diritto positivo perché il giudice deve interpretando ma applicare quella legge e la dottrina non può inventare stupidaggini ma deve interpretare l'unica fonte di diritto che è quella legge il codice qui si realizza il vertice di quello stato assoluto che voi avete voi borsisti avete studiato per un anno a lungo in tutte le sue forme in tutti i suoi aspetti nella crisi delle forme del pluralismo sociale politico economico del medioevo qui nel codice si ha la legge la lex la madre di tutte le discipline dei rapporti umani questo punto seppure un po' velocemente passiamo alla seconda parte e cioè che cosa è successo dopo questo capolavoro dopo il code civil questo monumento mirabile da tutti i punti di vista letterario linguistico giuridico sociale politico cosa è accaduto è accaduto che a Sant'Elena a Sant'Elena Napoleone dice due cose dice io ho vinto 54 battaglie dice ho stravinto ma ho perso a Waterloo e tutti si ricorderanno della sconfitta di Waterloo ciò che resterà di me sarà il mio codice civile il mio codice civile e poi un'altra volta con una intuizione veramente di un genio disse ma perché i paesi d'Europa non prendono a modello il mio codice per fare un codice civile europeo quindi lui aveva in mente una Europa unita come lebbe Carlo Magno come lebbe lebbero i Cesari di Roma dopo il codice partì al galoppo l'età delle codificazioni tutti i paesi d'Europa cominciarono a dotarsi di un proprio codice in Italia dopo i codici preunitari ci fu il codice civile del 1865 che copiava il codice civile va detto che una cosa importante che delle 105 riunioni della commissione per il codice civile Napoleone partecipò a più della metà a 55 e quando Napoleone partecipava a una riunione non è che partecipava per star zitto o per pensare ai fatti suoi partecipava per dire qualcosa e ci sono istituti per esempio l'istituto della rescissione per lesione che sono figli della volontà di Napoleone anche contro quella di Portalis e degli altri membri della commissione dopo il codice civile ci fu il codice di commercio 1808 lui lì partecipò cinque volte interessava l'importante era il codice civile poi ci fu un codice di procedura civile un codice penale era il codice del cittadino del citoyen quello che era lì la misura della civiltà era nel diritto civile nel codice civile il metro della civiltà di un popolo e va anche detto che nell'ottocento tutti si dotarono di un codice la Germania faceva fatica in Germania era fino alla fine dell'ottocento ancora vigente il diritto romano attuale in Germania era vigente il diritto romano fino al 1899 quando entrò in vigore il bgb cioè il bgb il codice civile tedesco perché i fautori della codificazione vinsero su coloro che resistevano alla codificazione anche la Germania si dotò di un codice ma mentre il codice Napoleone era il codice di un legislatore il codice tedesco fu un codice piuttosto di professori furono i professori a mettere su un piatto d'argento al legislatore questo codice che vedeva delle figure frutto di una elaborazione dottrinale più che di un comando un ordine il negozio giuridico negozio giuridico è una figura dottrinale non è una figura non è un comando tutta l'Europa viene fornita di codici non solo ma quando poi nel novecento ci sono c'è la polverizzazione dell'URSS per esempio della Jugoslavia e dei paesi dell'est ognuno ha fatto una rincorsa verso la codificazione ognuno ha voluto un suo codice e l'Europa vediamo che cosa è successo è successo innanzitutto che quel mito della completezza tutte le risposte stanno non c'è altrove ha incominciato a cedere e alla età delle codificazioni si è fatta strada una età delle decodificazioni così come il professor Liti ha intitolato un suo celeberrimo libro del 79 che vuol dire vuol dire che alcune materie importanti che non stanno più nel codice ma stanno altrove per esempio cosa c'è di più importante della casa quindi tutta la disciplina relativa alle locazioni l'abitazione l'ufficio tutto fuori dal codice il codice detto minuti principi cosa c'è di più importante della realizzazione delle opere tutto ciò che voi vedete guardando affacciandovi alla finestra sono opere strade ponti case palazzi che sono appalti la legislazione sull'affalto privato e pubblico ha come dire migrato è andata fuori dal codice la patologia societaria per esempio fallimento non si trova nel codice si trova fuori tutte le leggi che riguardano la formazione dei bilanci delle spa delle società tutte le leggi relative al diritto bancario quindi tutte queste realtà nuove tutto il mondo dell'informatica non sta nel codice sta fuori sta in leggi complementari al codice o in leggi speciali chi li chiama speciali cioè specie se rispetto al genus o complementari di complemento rispetto alla casa madre ma in sostanza molti nuclei portanti sono migrati dal codice il diritto per esempio le leggi sul divorzio tutta la problematica è uscito dal codice il codice dei consumatori tutta la problematica di tutela del consumo il fenomeno della decodificazione ma però va sottolineato una cosa molto importante che è questo che anche questo fenomeno della decodificazione non significa far venire meno l'unicità della volontà del sovrano cioè la legge non è più espressa nel codice è espressa altrove ma sempre une la fonte la volontà del sovrano questo è il passaggio epocale determinato dal codice l'ablazione del foltissimo bosco per dirla col muratore è la creazione di un'unica fonte che sta nel codice sta fuori dal codice nella legge sugli appalti piuttosto che delle locazioni o del diritto del lavoro la legge giugno che sta fuori dal codice però legge è e sempre resta legge l'unico modo di esprimere la volontà da parte del sovrano quando poi fu creata la costituzione per lettere articolo 1 si stabilì che il sovrano è il popolo il sovrano non è il giudice il giudice scrive le sentenze il nome del sovrano che è il popolo il giudice francese scrive le sue sentenze au nom du peuple che è il sovrano il giudice inglese scrive le sentenze au nom cioè a nome della regina che è il sovrano il nome del volkes in Germania il nome del sovrano che è il popolo chiamolo popolo chiamatelo come volete ma il giudice non è più Bush de Suamem non è più Deus come un tempo ma è un mandatario del sovrano che applica la sua volontà nel caso di specie chiedo alla dottoressa Erlingo ancora qualche minuto e in caso affermativo quanti? certo che ancora qualche minuto almeno 10 minuti sicuramente 10 minuti mi dà va bene prima delle domande va bene allora cosa è successo? la consuetudine è sparita? no non si chiama più consuetudine si chiamano usi ma gli usi hanno valore vincolante di legge di legge solo quando espressamente richiamati dal sovrano dalla legge l'equità quel qualcosa di vago di di senso del giusto e dell'ingiusto non lo so è sparita dall'ordinamento? no è ammessa l'equità solo quando è espressamente voluta voluta e riconosciuta dalla legge non vi sto ad elencare i casi la dottrina classifica ordina e tutto sono scritti nel libretto che riceverete o avrete modo di vedere di quel libretto di appunti che gentilmente il presidente aveva mostrato ma ci sono ancora altri punti che troverete lì scritti ma vorrei fermarmi solo su due uno è un fenomeno importantissimo che è quello della globalizzazione che conseguenze ha portato questo fenomeno epocale della globalizzazione secondo il problema del diritto europeo quel sogno napoleonico nell'isola di Sant'Elena che fine ha fatto qual è il destino di quel sogno globalizzazione allora qui si è detto tutto il contrario di tutto si è anche straparlato parecchio ma soprattutto la globalizzazione è un fenomeno economico nasce come fenomeno economico cioè nasce come modo nuovo di produrre la ricchezza un modo globalizzato significa un modo dislocato di produrre la ricchezza io in italiano compro il cashmere in Nepal lo faccio cucire tagliare fare eccetera in Cina poi lo porto in Italia per assemblare e lo porto lo vendo io ho il marchio importante mi chiamo Cuccinelli mi chiamo Armani mi chiamo Dior non lo so ma la produzione del bene prodotto che entra nel mercato è frutto di un meccanismo globale non più locale e allora che cosa cazzo per noi per i noi giuristi secondo me resta sempre il valore dell'unicità della fonte di diritto nel senso che là dove si compra la stoffa varrà la legge del luogo la lex loci del Nepal là dove si taglia e si cuce varrà la legge quale legge il diritto del lavoro le assicurazioni le garanzie i rischi di morte sul lavoro del luogo in cui il bene viene elaborato prodotto poi una volta arrivato in Italia verranno le leggi italiane per quanto riguarda la distribuzione del bene prodotto in quel modo su un mercato quindi in un certo senso anche la globalizzazione non vulnera il cuore della rivoluzione della sovranità della legge lo stato di diritto è quello servo della legge ma è anche il padrone del fare la legge secondo e ultimo punto ce ne sarebbero altri due però importanti uno è il diritto europeo ci sono riviste di diritto europeo ci sono cattedre di diritto europeo ci sono libri di diritto europeo ci sono stati tentativi di creare un codice civile europeo il draft of common frame of reference un lavoro di anni con diciamo tutti i rappresentanti dei vari stati che partecipavano a una commissione europea per la creazione di un codice civile europeo ho avuto l'onore di partecipare a questa commissione al draft common frame of reference presieduta da von bar presidente della commissione in tedesco finanziata dalle stiflung tedesche dalle fondazioni tedesche tutto il lavoro è stato riversato in dieci volumi è stato portato come feci i professori della fine ottocento al legislatore cioè l'europa ma il codice civile non c'è per la semplice ragione che non c'è Bismarck non c'è Napoleone non c'è nessuno non si sa chi c'è l'europa non ha una struttura di comando di potere tale da poter imporre un codice civile europeo si resta con le codificazioni nazionali e chi comminotea delle norme dell'europa entrano a far parte dell'ordinamento nazionale ultimo passaggio che merita però di essere ricordato è che in questi anni il sovrano si è indebolito ha perso peso la sua mente è confusa è un sovrano che non è più quello di una volta potremmo dire allora l'organo periferico che deve obbedire il mandatario della volontà del sovrano il giudice coltiva coltiva antico desiderio quell'antico sogno del giudicante di essere tanquandeus e cioè di obbedire alla legge quando gli fa comodo di crearne una sua quando gli pare piace di dettare una sentenza anche contra legge il potere politico cioè il sovrano non ha la forza di costringere il giudice all'obbedienza quella forza che avevano i rivoluzionari dell'89 ma è debole davanti al giudice il giudice con la scusa di decisioni costituzionalmente orientate con la scusa della nomofilachia in realtà aspira a un ritorno al passato la dottrina non è più quella che parlava in maniera referenziale oggi la dottrina dialoga con la giurisprudenza anzi è succube della giurisprudenza le monografie di una volta lo troverete qualche appunto negli appunti citava la giurisprudenza solo per dimostrare che il problema non era teorico ma aveva una rilevanza pratica punto ma non dialogava con il giudice con la Cassazione con quel tribunale Cuiaccio dialogava con Bartolo sentire il giudice che c'era oggi non è più così quindi il potere politico ha come dire un Alzheimer legislativo la dottrina ha perso la sua capacità di influire e di imporsi alla giurisprudenza la giurisprudenza alza la testa ritenendosi di essere ormai l'unica depositaria dei valori della Costituzione e della legge e con questo l'unica cosa che posso dirvi per chiudere è di sfogliare soprattutto queste ultime parti del dopo la codificazione che ho dovuto come dire un po' frettolosamente riassumere cercando di fissare solo i punti salienti senza poter naturalmente addentrarmi in importanti dettagli avevo promesso di dire due parole del penale io non sono un penalista quindi i miei sono ricordi risalenti però vi posso dire che prima dei della come dire della precisazione dei delitti e delle pene questi sono delitti al di fuori di questi non c'è delitto e quindi non c'è delitto tutto era molto confuso essenzialmente il diritto penale consisteva in una pena che era la pena di morte che poteva essere immediata o a esecuzione prolungata immediata vuol dire impiccagione se sei nobile la mannaia ti taglia la testa non si può impiccare Anna Bolena gli si taglia la testa un pirata un pirata da tennone davanti a tutte le porte delle città delle mura c'erano sempre degli impiccati così come lungo le vie romane c'erano sempre dei crocifissi facevano parte del panorama e davano il senso del rigore e del potere l'esecuzione prolungata andavano in galera venivano mandati in carcere a pane e acqua senza proteine vitamine in mezzo ai topi che poi finivano per mangiare con i scarafaggi morivano dopo poco l'unica speranza di chi andava nelle prigioni era scappare poter scappare avevano una speranza non c'era una tipizzazione precisa dei delitti oggi nulla pena si ne legge principio cardine fondamentale beccaria ha stabilito che non si può dare la pena di morte sempre e comunque come una bestemmia pena di morte no la pena di morte si diceva Beccaria ma solo in cinque casi profanazione dell'altare parricidio parricidio tradimento dello Stato più altri due che non ricordano qui per questi casi gravissimi pena di morte altrimenti no diceva Beccaria però il punto fondamentale è che c'erano delle fattispecie di delitto che sono quelle al di fuori di quelle fattispecie non può esserci pena quindi queste figure un po' strane l'appoggio esterno non è una fattispecie è qualcosa di fluido poco poco leggibile per un giurista raffinato come poteva essere un Beccaria la pena era la pena di morte chi non era nobile rischiava il rogo Giovanna d'Arco è andato al rogo Giordano Bruno è andato al rogo Galileo Galilei è arrivato a un passo dal rogo e perché non è che cosa ha fatto di male ma ha detto un'assurdità e cioè ha detto che non è il sole che nasce a oriente e poi gira e poi sprofonda d'occidente ha detto una cosa assurda ha detto che è la terra che gira non il sole ah sì rogo perché è perché siamo in un'epoca in cui non si poteva contraddire la Bibbia la pagina della Bibbia non può uno sedicente scienziato uno che si è montato alla testa contraddire la verità biblica la verità della parola divina fermati o sole dice Giosuè e no allora vuol dire che gira un altro elemento fondante del diritto penale dei secoli e uno strumento formidabile è stata la tortura davanti alla tortura tutti cantavano ci sarà stato forse uno su un milione che sapeva resistere alla tortura ma solo davanti agli attrezzi della tortura uno canta confessa tutto tutto quello che c'è da confessare è anche quello che il pubblico ministero voleva sentirsi dire così è stato per secoli la tortura ma non per secoli parliamo del Medioevo gli anni bui no no fino al Novecento il pubblico praticava la tortura che andiamo lontano e come si chiama quello che hanno fatto i giudici di Milano di Mani Pulite che dicevano guarda tu secondo me non hai una buona memoria adesso vai dentro a San Vittore stai lì un po' al fresco così ti rinfreschi la memoria vedrai che poi mi racconti tutto come si chiama questa? è la tortura del KGB e cosa fanno in Egitto e cosa fanno in Arabia Saudita lì c'è anche la lapidazione ma la lapidazione è scritta nella Bibbia no? la pena della lapidazione era una pena alla quale la Madonna ha rischiato l'ha salvata San Giuseppe se no una ragazza madre non esiste quindi è la morte immediata pena a esecuzione prolungata tortura nel buio del Medioevo ma in forme più raffinate diverse eccetera fino a Manipovite per quanto ne sappiamo non è una tortura nel senso quella praticata che so da Torchemada ma c'è qualcosa che assomiglia e non è un caso dunque che sono poi si sono sviluppati la teoria e la scienza dei diritti umani della tutela dei diritti umani perché insomma la civiltà è fatta di tante cose e tra queste anche dei diritti umani io avrei finito avrei finito l'ina di massima potrei ovviamente continuare ancora a lungo ci sono tanti temi per esempio l'abuso delle clausole generali ci sono tantissimi temi che possono essere naturalmente trattati però fermiamoci qui mi rimetto a qualche domanda se qualcuno ha desiderio voglia io sono qua in attesa che i borsisti si si prenotano per le loro domande vorremmo come dire esprimere grande ammirazione per questo escursus straordinario che ci ha dato nella sua chiarezza e nella ricchezza dei temi io penso che il libretto che ha dedicato ai borsisti consentirà poi loro ulteriormente di approfondire perché è chiaro come ha detto alla fine che tanto ancora sarebbe da toccare da affrontare io io solo appunto ma solo per dare il tempo ai borsisti di intervenire due domande uno da quello che dalla sua straordinaria lezione cosa ne è del sogno napoleonico punto interrogativo e due l'altra questione che lei ha toccato alla fine e cioè dell'impossibilità di un diritto europeo ecco questo mi sembra anche un punto molto importante nella prospettiva che lei ha delineato grazie allora il diritto law and order è qualcosa di fisso la norma giuridica per dare sicurezza deve essere quella non può essere una norma mobile come in passato tuttavia dietro questa fissità ci sta la storia ci sta la lotta per un nuovo diritto la lotta per nuove regole non c'era il divorzio in Italia ci fu una lotta per rinnovare il diritto e il diritto fu rinnovato con la legge del 70 sul divorzio e nel 75 di riforma del diritto di famiglia Napoleone pretese contro la volontà dei rivoluzionari pretese di mantenere nel code civil la regola che il marito è il capo della famiglia in rivoluzione dice ma no come si fa a mettere il capo della famiglia no io lo pretendo perché questo corrisponde al comune sentire e lui che naturalmente aveva la testa al posto giusto ed era molto ossigenata aveva voluto questa norma nel 75 ci fu la riforma in Italia del diritto di famiglia e non c'è più un capo della famiglia ma entrambi i coniugi concorrono alla realizzazione del progetto familiare quindi le norme si cambiano se c'è dietro una forza dietro la norma c'è la storia c'è quella che Jering chiamava la lotta per il diritto e Benedetto Croce quale questo istituto è intitolato scrisse una prefazione a questo libro di Jering la lotta per il diritto quindi il diritto non è del tutto estraneo al mondo crociano diciamo così perché il diritto fa parte della storia e come abbiamo detto prima anche della filosofia non c'è grande filosofo che non abbia dedicato un capitolo alla diritto Hegel Schopenhauer Nietzsche Heidel per non dire degli antichi del Cinquecento abbiamo visto Grozio Spinosa Cartesi quindi dietro la norma fissa c'è la lotta per il suo cambiamento c'è il potere il potere è politica storia tutto quello che volete che poi a un certo punto anche la rivoluzione deve calarsi in qualcosa cioè in regole nuove l'Europa l'Europa per me è un perché ho lavorato tanto nella commissione per la creazione di un codice civile europeo il che significa non come dire fare chissà che ma farsi attribuire dai sovrani dai vari sovrani delle porzioni di sovranità per poter avere un codice che valga per tutti oggi l'Europa vive in un sistema dove non si sa quando si trasferisce la proprietà di un bene mobile determinato nella specie secondo Napoleone la proprietà si trasferisce al momento del consenso del solo consenso secondo il diritto romano e secondo i tedeschi non basta il consenso ci vuole anche la tradizio cioè io divento davvero proprietario quando siamo d'accordo ma poi il bene me lo dà in un'altra bene queste sono due regole contrapposte quella francese e italiana e quella romana e tedesca ma è possibile che in una Europa che ha una moneta unica che ha un inno unico e una bandiera pure non abbia una regola che stabilisca quando passa la proprietà di un bene mobile determinato nella specie non è possibile sembra incredibile eppure eppure così ci sono naturalmente dei settori che la commissione Fonbar non ha voluto trattare appositamente per esempio il tema della famiglia delle successioni lì sono problemi perché ci sono quelli di area cattolica che privilegiano il riconoscimento di una legittima cioè ammettono l'esistenza di legittimari cioè di soggetti eredi che hanno dei chiamati all'eredità che hanno diritto ad una quota dell'eredità senza eppure contro la volontà del decuius altri invece come in Inghilterra e in America no prevale il principio secondo cui il decuius fa quello che vuole ed è un principio romanistico perché non dimentichiamo che quel diritto romano quello ius comune omnium di cui avevamo parlato all'inizio di questa conversazione è finito per essere il common law dei paesi di common law quindi molti principi romanistici e non e non papisti diciamo così sono trasferiti nel common law addirittura l'insegnamento del diritto si è diversificato tra noi e i paesi di common law perché da noi il diritto veniva insegnato nelle università come utroque iure civile e canonico con Enrico VIII questa idea che questi ragazzi studiassero anche il diritto canonico non andava bene allora ha detto no vabbè la formazione si fa negli in cioè nei tribunali tu ragazzo vai lì e impari senti ascolti vedi cosa fanno i giudici e nasce il diritto della common law che è un diritto casistico molto simile al diritto romano dove prevale il principio dello stare decisis da noi la sicurezza del diritto sta nella regola della norma giuridica stabilita dal codice là nello stare decisis cioè il giudice non può capricciosamente decidere come gli pare piace ma deve seguire l'orientamento giurisprudenziale che lo precede stare decisis vuol dire obbedire al modo con cui in passato questo stesso caso è stato deciso il diritto europeo allora questo sforzo che è stato compiuto questo draft come questi principles che sono stati individuati cosa ha fatto questa commissione ha individuato dei principi delle regole motivandole abbiamo scelto questa regola che è quella adottata per esempio nel diritto olandese perché è quella preferibile sotto questi punti di vista quindi commentino sotto la regola prescelta ma per passare da questo lavoro a una legge vera e propria ci vuole il passaggio politico ci vuole una lotta per l'affermazione del diritto non c'è non c'è la politica europea che cosa c'è però rimasto è che ormai non c'è più uno studio una monografia un articolo un saggio di un giovane che vuole studiare un argomento eccetera che non faccia riferimento alle soluzioni della FONBAR della commissione di cui vi ho parlato quindi in qualche modo quel lavoro non è volato via in cielo ma è rimasto in terra è entrato negli studi degli studiosi dei giovani sui quali poi anche i giudici si formano e formano i loro convincimenti quindi c'è un circuito sotterraneo ma manca l'aspetto formale che è quello che dà certezza e sicurezza e quindi mi arresto c'è qualcun altro giuseppe 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 moro c'è una domanda prego salve professore grazie per la lezione per il libro anche naturalmente serò brevissimo dato insomma il tempo io in realtà volevo partire da un'affermazione che lei ha fatto e che credo di aver capito soltanto in parte quindi è un chiarimento diciamo su cose che lei ha affrontato e in particolare quando lei appunto dopo aver citato il caso dell'età della decodificazione ha sostanzialmente detto che una delle valutazioni importanti da fare in merito è che sebbene appunto i classi di formazione moderna ci siano casi di decodificazione questo comunque non toglie e non nega che diciamo così rimane il principio dell'adozione dell'unicità della legge anche se le leggi appunto sono esteriori ai codici ora mi è chiaro diciamo così il senso dell'affermazione mi è chiaro da un punto di vista diciamo così storico dottorinale nel senso che anche come lei diciamo così ribadisce in alcune parti del testo in questo modo lei dimostra come la codificazione sia l'evento centrale della costituzione dello stato moderno e quindi si separe diciamo così da un lato dall'idea appunto della decodificazione e dall'altro però anche dalla prospettiva diciamo così storicistica di Paolo Grossi bravo non so se riesce a sentire no ho capito ho capito è una bella osservazione allora noi abbiamo parlato di un lungo processo che porta alla codificazione e che si accompagna alla formazione dello stato moderno a un certo punto il diritto iure imperi si coniuga col diritto imperi e razioni il positivismo si sponda con il gius naturalismo chiaro? ma davanti a questo c'è la rivolta l'opposizione di alcuni studiosi che la pensano alcuni studiosi anche italiani tipo Paolo Grossi che la pensano esattamente come la pensava Savigny nella fine dell'ottocento cioè ma quale codificazione non si può ingessare in un in un frac in uno smoking il diritto il diritto è qualcosa che è fluido come fluida la storia come fluida l'acqua tutto scorre e quindi non si può essere parmeni dei nel diritto bisogna essere consapevoli che non si può bagnare i piedi nel fiume alla stessa acqua questo è la posizione di Paolo Grossi è di molti che ritengono sottotraccia anche se non apertamente ma che sottotraccia ci sia una crisi mortale della filosofia ideologia e del pensiero della codificazione ma questa dottrina pur molto autorevole Paolo Grossi è un grande giurista presidente della corte costituzionale accademico dell'incei una persona di grande valore non valuta abbastanza il bisogno di sicurezza della gente di certezza del diritto insomma io devo sapere se è arrivato a un crocevia se c'è rosso se mi devo fermare o se è verde posso muovermi insomma ditemi cosa devo fare l'uomo ha bisogno di certezze al crocevia o quando sale in macchina io so che quando salgo in macchina devo accendere i fari mettere la cintura tenere la destra se sono in Inghilterra devo tenere la sinistra ci sono regole che devo seguire se invece diamo al diritto un ruolo di fluidità di sottotraccia e non di traccia di tracciato si genera incertezza si genera insicurezza insomma io in macchina devo tenere la destra o devo stare a sinistra ditemelo voglio certezza per evitare l'incidente questa è la posizione molto colta naturalmente perché Paolo non fa un discorso banale fa un discorso coltissimo ma però ha un tallone d'Achille quello della certezza del diritto anche nell'arbitrato per dire l'arbitrato sapete cos'è l'arbitrato più o meno è una giustizia affidata non al giudice togato al tribunale ma a dei non togati stimati ritenuti competenti di una certa materia e quindi ci si affida a loro per avere una decisione la decisione può essere secondo diritto o secondo equità ora se è secondo diritto gli avvocati sanno di che cosa parlano allora io ritengo che la norma va interpretata così l'altro ritiene che vada interpretata in senso contrario e lui decide l'arbitro decide come interpretare i fatti e come interpretare le norme che riguardano quei fatti ma se non ci sono le norme su cui aprire un contraddittorio regna l'incertezza del giudizio cioè è una magia alla fine esce dal cappello un coniglio e qual è? una lepre un coniglio un'altra vestia non lo so dipende dal senso dell'equità che c'ha il giudice ma lo saprò solo alla fine della procedura no prima prima io so quali sono le norme in gioco nel caso di specie no quindi l'ipotesi di Grossi è culturalmente affascinante non c'è dubbio perché è vero che il diritto fluisce ma non il diritto l'interpretazione la politica la storia quella fluisce il diritto è lì volete cambiarlo cambiatelo non riuscite a cambiarlo dovete obbedirli e se no cambiate stato e fate come temistro ben andate fuori e se no state dentro e obbedite o con forza cercate di modificare la legge attraverso la politica non vi piace il divorzio cercate di con la forza della politica della storia di ottenere una modifica della legge e introdurre quella sul divorzio è tutto così una dialettica tra norma che dà sicurezza certezza e politica che è movimento che è storia che è tutto quello che conosciamo sfogliando anche i giornali della cronaca grazie grazie a lei c'è una domanda su youtube Ottavia De Luca la ringrazia per la bellissima lezione e le chiede già dall'inizio del XVII secolo i giuristi napoletani coinvolti nei conflitti di giurisdizione chiedevano a Madrid di fornire delle linee guida con filangeri i problemi posti dallo scavalcamento di giurisdizione da parte degli ecclesiastici e le chiede secondo lei queste istanze possono essere considerate il desiderio acervo di una codificazione o si iscrivono semplicemente nella consuetudine giuridica del tempo no io penso più verso le consolidazioni perché perché si possa parlare di codificazione bisogna rifarsi a quella ideologia drammatica di ablazione annullamento cancellazione rivoluzione di cui abbiamo parlato e insomma sono concetti veramente drastici quelli dell'89 sostanzialmente grondano sangue insomma lì siamo passati da un mondo diciamo del fortissimo bosco sia pure con le consolidazioni a un mondo totalmente nuovo quello della libertà dell'uguaglianza ma sono cose solo solo non una festa di famiglia insomma lì ci vuole una rivoluzione per realizzare una realtà del genere le rivoluzioni hanno un prezzo che pagano drammatico gli stessi rivoluzionari quelli che abbiamo ricordato Brobespierd Sant'Anton Saint-Just tutti ghigliottinati perché la rivoluzione vibora se stessa ma hanno realizzato le basi che ha consentito poi a Napoleone il legislatore il vero legislatore a realizzare il codice quindi tutti quei movimenti napoletani ma non solo napoletani anche del nord anche francesi anche tedeschi sono come dire prodromici rispetto al sangue rivoluzionario sono preparatori sono lì in attesa di qualcosa sono come San Giovanni Battista no? che battezzava cosa fa con questo battezza si vestiva di pelli un pazzo nel deserto aveva una funzione preparatoria adesso non so se le pagine di Giuseppe e Flavio siano interpolate siano messe lì siano autentiche o no però non c'è dubbio che l'epoca di Giovanni Battista gli esseni attendevano qualcosa insomma e poi ci vuole qualcuno e poi ci vuole il sangue insomma la croce la ghigliottina per realizzare il passaggio e purtroppo la storia la storia è questa va avanti così va avanti in questo modo purtroppo non sempre le carezze sono sufficienti non vorrei adesso stanotte sognate fate sogni torbidi no no c'è anche l'ottimismo della speranza della buona volontà poi viviamo adesso in un'epoca felice viviamo in un'epoca felice pensate che Dante Alighieri come dicevo quando Dante Alighieri ha fatto Bologna si è messo a memoria tutte le neide perché non aveva il libro delle neide da portarsi a casa e poi leggerselo di sera ha dovuto mettersi la memoria le preghiere tutte le sere la gente doveva pregare la religione cristiana è la religione più dura tra tutte le religioni quella musulmana è abbastanza facile quattro pregherine e invece quelle cristiane sono pesanti la quaresima durissima altro che Ramadan Ramadan mangiano un po' prima un po' dopo ma mangiano quaresima no durissimo un mese di quaresima ci voleva poi il carnevale bene tutto a memoria il rosario tutto a memoria i misteri gaudiosi dolorosi salva il regino tutto a memoria santificato lo santificato non si può sbagliare però la preghiera non vale noi non riusciamo a capire che cos'è la memoria noi abbiamo imparato io almeno imparavo delle poesie a memoria per allenare un po' la memoria oggi non si usa più la memoria c'è bisogno c'è il telefonino una volta era solo memoria perché un libro era un bene inaccessibile per il costo ma era inaccessibile anche la luce ma vi rendete conto dell'umanità di allora che quando il sole tramontava c'era il buio bene accendo le candele no le candele nei castelli ma nelle campagne i soldi per comprare la candela dove sono? si possono fare i lumini lumini a olio costa l'olio costava tutto gente moriva di fame quindi il buio favoriva anche i pensieri di paura se non di terrore se una donna usciva dopo dopo mangiato la sera col buio con la luce della luna rischiava c'era sempre il rogo delle streghe di sé fino a 800 e non è che parliamo di chissà quando quindi il buio era come dire proprietà del demonio la luce è divina ma per avere la luce bisogna pagare ci vuole il fuoco ci vuole la candela costa costa tenere sempre acceso un fuoco costa avere le candele il lumicino quindi era una vita di terrore di paura e quindi il bisogno di obbedire a delle norme per avere sicurezza per essere sicuri a un certo punto ho fatto il mio dovere e poi per l'eternità era molto profondo grazie grazie professor Iurica noi la ringraziamo per questa bellissima discussione e conversazione che ci ha veramente molto coinvolto e poi devo dire penso di interpretare i nostri allievi ci ha fatto anche rivivere i mondi antichi e presenti che ha ricostruito e evocato potremmo continuare sa quanto significa anche questa aula virtuale che riusciamo a realizzare abbiamo la prospettiva dell'istituto del salone Federico Chabot riusciamo lo stesso come lei vede allargare lo spirito allargare lo spirito grazie a lei oggi c'è il suo libretto che è affidato anche ai borsisti se qualcuno di loro vorrà mi scrive per porle delle domande chiedo se li possiamo dare il suo indirizzo mail per continuare questo dialogo veramente bellissimo grazie grazie a voi allora adesso mi distacco dottor Giordano la saluto saluto tutti i borsisti grazie vado sul rosso e abbandono la riunione grazie grazie a tutti grazie professore arrivederci grazie grazie mille arrivederci arrivederci grazie mille arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti